segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'è uno nobile ha sentito per agnelli l'idea del razionamento è qualcosa che insomma non è che funzioni tanto la il bollettino economico della bce di questa mattina rivela che in realtà l'inflazione è elevata anche al netto dei beni energetici siamo davanti alla tempesta perfetta perché poi c'è il rischio che putin ci chiuda definitivamente il rubinetto del gas come si fa a evitare che tanti imprenditori chiudano e che quella promessa di crescita dopo la pandemia diventi invece recessione ma intanto agnelli ha molta ragione sia sulla necessità che le scelte della politica siano veloci spesso ci si interroga su quale la differenza fra democrazie e autocrazie perché le autocrazie competono così fortemente con le democrazie uno dei grandi temi su cui le democrazie devono recuperare terreno è esattamente la velocità nelle decisioni che purtroppo le autocrazie riescono a garantire putin da un momento all'altro decide di chiudere le forniture il nostro paese che è una democrazia deve fare un percorso l'europa democratica deve fare un percorso per fronteggiarlo ma seconda cosa su cui ha ragione è la concorrenza in qualche modo sleale che dentro europa ci troviamo perché il costo energetico delle imprese concorrenti energivore francesi manufattoriere francesi è ovviamente più basso perché hanno un mix energetico molto diverso costruito non tanto con la velocità delle risposte di oggi ma con scelte sagge del passato peraltro questo problema arriva mi potrà confermare osmenti ragnelli in un momento in cui questa ripresa si sente le imprese come la sua hanno ordinativi a cui a cui rispondere spesso maggiori degli anni precedenti e non possono far fronte perché l'utile che gli deriva dagli ordinativi rischia di essere totalmente consumato dalle spese per l'energia e allora il governo sta facendo delle cose ieri un nuovo decreto 3 miliardi e 200 milioni per far fronte e garantire gli stessi sgravi a famiglie imprese un altro tesoretto grazie a delle entrate fiscali positive che ci sono state in questi mesi sarà messo a disposizione nei prossimi 15 giorni con 5 6 miliardi ancora da destinare all'energia solo il solo garantire quello che il governo sta garantendo iva al 5 per cento e cancellazione degli anni generali comporta un costo di oltre un miliardo al mese e questo dobbiamo avercelo ben presente in tutto questo quadro velocità risposte sensate contrasto a questi fenomeni dall'altra però un po di ragionevolezza quando i tempi sono calmi perché questo è un paese che ha detto no alle rinnovabili ha detto no alle trivelle nell'adriatico ha detto no a tutto quello che ci avrebbe garantito in passato fassina l'autonomia energetica ricordava anche l'ultimo intervento